è da tempo immemorabile che ho desiderato fare questo viaggio in italia forse fino da quando mia madre mi ci portò nel suo grembo gli anni trascorsi d'allora si possono facilmente valutare andando a vedere i registri del kunsthaus dove ognuno sia esso uomo o donna deve rilasciare una sorta di confessione per decenni ho vissuto alle porte dell'italia spesso le mie valigie erano pronte per raggiungerla ma a causa di un imprevisto o per qualche altro impegno non sono mai partita avevo visitato molti altri luoghi del mondo anche più lontani ma non avevo mai raggiunto quello che sognavo di vedere a un certo punto decisi di seguire il consiglio di maometto lasciai che l'italia venisse a me spesso fantasticavo su questo paese e come protagonista dei miei sogni mi valevo di francesco il santo e l'amico dell'uomo degli animali e della natura anche questo non succedeva ieri ma 15 anni fa quando esegui i miei primi schizzi di san francesco il mio interesse divenne talmente costante e articolato che addirittura un bel giorno il santo si materializzò a quel punto ebbe inizio la mia opera di persuasione di santo il mio amico e modello anche lui infatti desiderava vedere l'italia e così facemmo a gara per vedere chi lo desiderasse più intensamente in quegli anni della mia vita non avanzavo mai niente e i soldi bastavano a malapena per andare a piedi da scona a locarno ma poi avvenne qualcosa di inaspettato alcuni amici acquistarono il mio quadro e il papa avviando le celebrazioni per l'anno santo abbassò il prezzo dei biglietti ferroviari quasi al costo di una corsa di tram finalmente l'italia era così vicina che si poteva quasi toccare con mano bastava fare un passo per essere oltre il confine era il primo giugno quando ho allungato la mano e teso la gamba ma il 15 luglio ero sempre e ancora ad ascona tra me e la terra promessa si estendeva ancora il lago che sembrava essere diventato grande quanto la mia infelice patria con le sue steppe e le sue strade impraticabili con le sue infinite possibilità e con i suoi infiniti impedimenti ero in attesa del visto italiano con la pazienza propria delle donne con la rassegnazione di una russa e con il furore di un artista pervasa dallo spirito dataista questo è il motivo del perché la mia prima lettera dall'italia fu scritta da ascona e funge da introduzione alle lettere successive santo il passaporto finalmente è arrivato il passaporto santo mi guardava senza comprendere è un cantante originario della germania settentrionale terribilmente corretto appartiene a quella categoria di persone che definiscono tutto quello che non si sviluppa seguendo una successione logica come qualcosa di inutile e di errato santo che io stessa avevo così canonizzato era arrivato dal suo paese con tutti i visti perfettamente in ordine e pretendeva che io li avessi altrettanto a posto dopo avermi manifestato tutta la sua disapprovazione si mise l'anima in pace al numero 47 del suo registro di vita e decretò che avrebbe potuto attendere in eterno quindi finalmente arrivò il mio passaporto con il visto per italia il viaggio sarebbe potuto cominciare se non fosse stato per il bagaglio le mie valigie erano pronte da sei settimane ma solo per la mia ingenuità di pittrice di san francesco avevo potuto pensare di partire alla volta di assisi senza dover subire un controllo del bagaglio da parte del mio ispettore il quale era uso applicare il codice militare prussiano codice per il quale ogni cosa è superflua santo caro è impossibile che io viaggi solo con uno zaino i vestiti prendono poco spazio e la maggior parte delle cose che porto mi serve per dipingere alla fine mi permise di portare una cartella da disegno nella mano sinistra e la mia famosa borsa con i blocchi da disegno le matite e gli occhiali sulla spalla destra la valigia invece la caricò un facchino che ci avrebbe seguito così finalmente riuscimmo a salire sul treno e a dire addio alla tanto cara scona le incantevoli montagne di lugano erano ormai alle nostre spalle e nella confusione della dogana di chiasso il mio santo e accompagnatore capitolò la mia valigia era distesa sul tavolo dei doganieri come una vittima silenziosa intanto il santo tentava di rimettere tutte le cose al loro posto nei tempi da lui desiderati senza riuscirci fu così che spezzando una delle mie cinture commentò sbrigativamente che avrei dovuto accontentarmi dell'altra metà era questa la sua comprensione dello spirito femminile una volta ripartiti le montagne si stavano lentamente allontanando e l'enorme volta celeste con le nuvole che si muovevano in un gioco di forme e colori variegati stava prendendo il suo posto alla stazione di milano venimmo travolti da un treno luccicante rumoroso che brulicava di pellegrine con abiti lunghi fino alle ginocchia che arrivavano da parigi un altro treno invece era carico di seminaristi vestiti di nero con espressioni statiche quasi assenti come fossero scarafaggi in fila camminando stendevano le gambe in modo tale che a ogni passo la loro veste sembrava formare ambulanti triangoli neri alcune donne attendevano il treno accovacciate sui loro piccoli bauli di legno mentre noi correvamo in avanti e indietro lungo i vagoni pieni zeppi di persone fino quando riuscimmo a stiparci in uno scompartimento quindi attraversando la pianura lombarda per proseguire il viaggio alla volta di bologna fui preso presa da una dolorosa e pur dolce nostalgia per la mia terra la pianura piatta come una mano è coperta da campi di grano appena tagliato colore dell'oro ed è attraversata da filari di pioppi che si perdono all'orizzonte file di viti blu verde si stringono a forma di cesto intorno ai gelsi verde scuro chiese panciute con esili campanili cascinali grigi e case di campagna colorate con vecchi torrioni sono disseminati per il paesaggio come su una tavola imbandita in lontananza si vede il bagliore color madreperla di una catena di montagne dolce e delicato come il sogno di una nostalgia verso sera i colori brillano come pietre preziose sulla superficie di questa pianura e il cielo si tinge di rosa e di rosso una quiete particolare riempie il cuore mi piacerebbe conoscere la vita che si svolge in queste terre tutto sembra così limpido senza malvagità e solo le case conoscono il segreto dei loro abitanti come vivono cosa sentono le loro anime cosa li unisce come si danno la mano desiderano raggiungere le montagne color madreperla qui la vita sembra essere diversa dalla vita nelle nostre steppe ma cos'è diverso come viene affrontato in queste terre l'eterno mistero dell'amore e della sofferenza bologna la prima impressione è quella di una città piena di movimento di ragazze graziose di bersaglieri di automobili strombazzanti di rumori indistinti di tintinnar di vetri di musica all'aperto di persone che mangiano e bevono in mezzo alle strade di negozi lussuosi e ancora di gruppi di donne particolarmente ben curate e più o meno attraenti tutta la vita di questa città sembra svolgersi all'ombra di una torre diritta come l'indice di dio rivolto verso il cielo e sotto i portici dove si libera spirito e anima le volte si muovono come onde e le strade strette sembrano perdersi nell'infinito i portici di bologna non hanno nulla di opprimente l'aria si respira che si respira è pura come in vetta le montagne e se solo ti sfiora l'idea di un'eventuale oppressione questa subito svanisce grazie alla forza di risalita dell'ovale delle volte i portici hanno quasi il ritmo del respiro dietro questi ci sono cortili e giardini secretati protetti dalle arcate l'occhio percepisce la costruzione matematica di questa architettura nella sua pura musicalità e la mente possiede la chiave per leggere la necessità organica del cubismo bologna bologna è una città cubista le sue linee i suoi piani i suoi volumi catturano l'anima e le due torri che si intersegano proiettano il principio cubista direttamente nel cielo durante il giorno le stradine gettano una luce dorata talvolta rossa sulle ombre grigio blu dei portici e di notte il buio copre il trionfo di questi colori avvolgendo tutto nel mistero su travi di legno scure e sottili si appoggia un piano basso rosso al posto delle finestre buchi neri davanti all'imponente portone di ferro pende una lanterna che irradia una luce giallo rossa contro la volta dell'ingresso dietro il quale si intravedono le foglie colore verde e accesso di qualche pianta meridionale la luce tremolante si riflette sull'astricato della strada e sulle imposte marroni delle finestre della casa di fronte figure si muovono veloci lungo i muri delle case e dietro l'angolo compare una piazza piccolissima dominata da una chiesa buia e silenziosa la piazza e la chiesa sono deserte le architetture esterne delle chiese di bologna sembrano intime preghiere mentre il loro interno non comunica quasi niente bologna appare avere impresso su di sé un sigillo dell'eternità che ferma e racchiude pensieri grandi grande arte e grandi destini ma la vita scorre spensierata e avvolge con i suoi racemi allegri questo macigno scuro la luce color rosa delle lampade elettriche si riflette su tulipani rossi e gialli su un'automobile grigia e su un'enorme sfera azzurra una compagnia di persone attorno a un tavolo bianco con dei bicchieri di vino rosso chiacchiera allegramente all'angolo si vede poi una pagoda colorata che sembra un giocattolo dimenticato da qualche bambino ai piedi dell'altissima parete della chiesa birra gelati anche i due bersaglieri sembrano dei giocattoli due piccoli puntini sotto la torre nel centro della città ci si immerge in un mare di luci nei colori del cinema nei caffè nelle donne 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 e nel sussurrare nel vibrare di un continuo andare e venire dopo mentre riposo sul letto invoco lo spirito di stravischi sento la rappresentazione orchestrata della butterfly intervallata dal clacson contrappuntistico di un'automobile dallo scalpellino che dallo scampanellio disperato di un tram e dal cigolio di un ascensore in movimento cerco di addormentarmi e nella disperazione compongo una sinfonia cubista improntata al futurismo Andrea potrà dirigerla il prossimo inverno ho una gran voglia di vedere le stelle sopra il tetto sotto il quale sto si alza il firmamento e la costellazione dell'orsa maggiore essa mi osserva e mi porta un saluto dalla mia amata ascona il mattino seguente nel duomo sono colpita da una visione sulle scale davanti a un altare tutto dorato è inginocchiata una figura femminile di altri tempi sembra una figura linea del trecento con le sue delicate mani raccolte in preghiera e capisco che questo è l'accordo risolutivo del motivo musicale della bologna così imponente grazie grazie grazie